Questo posto è più grande di quanto non sembri dall'esterno. Se non l'hai notato, era un po' una caratteristica di Reg Reskull. Abiti a casa sua, dopo tutto, o almeno ci abitavi, prima che te la rubassi io. Ma ci tornerò quanto prima, insieme agli altri. Vuoi provare a contrastarmi? L'abbiamo già fatto e rifatto. Guarda che non ho ancora messo le mani su quelle vecchie ossa. Battiti per giungere a lei. Spacca qualche cosa. Ferma il mio diabolico piano di rinascita. Che stai aspettando? Vuoi combattermi? Vieni pure! Il buon re Grayskull non avrebbe mai esitato. Kras non è mia nemica. Sì, invece! Tu sei mio nemico. Lei è solo la tua pedina. No, ti sbagli! Lei si fida di me. Non è vero. Forse non l'hai mai conosciuta davvero. Io ragiono con la mia testa! Voi bimbi giocate pure mentre Paparino va a svegliare il morto. Voi... Voi...